musica bella a tutti ragazzi e benvenuti al nostro video contest io sono xxuder e io la famina allora ragazzi amore mio finalmente e dai che ci sono riusciti assolutamente ragazzi ci fate sudare i regali cioè più che gli vuoi far regalare i soldi ci metto un tanto a prenderli porca miseria ragazzi beati voi siete riusciti a raggiungere il numero richiesto per fare il contest numero 27 27 non lo so neanche ragazzi 27esimo contest da 10 euro che vedrà uno di voi vincitore vincere 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 un buono da 10 euro vieni più qua che ti taglia la webcam un buono da 10 euro che potete spendere ragazzi come paysafe ricarica telefonica pensavo del sapone portafoglio psn esatto oppure nintendo switch o xbox le regole sono semplici spiegagli le regole sono sempre le stesse non cambiano bisogna commentare il video mettere il mi piace commentare sotto con la parola che tra poco vi dirò perché lei guarda lo schermo invece devi guardare la webcam non gli viene che tra poco vi dirò allora no gliela dico io visto che le dici sempre tu la parola da scrivere qua sotto e vale un commento è buon compleanno fortnite avete capito dovete scrivere qua sotto e non in chat buon compleanno fortnite vi ricordo ragazzi che all'ora è 22 ci sarà l'estrazione mi raccomando siate in chat un solo commento siate in chat e il vincitore doveva scrivere al momento in cui verrà fatta l'estrazione ci sono e poi la email e basta non spamate la chat va bene noi ci vediamo in live ciao 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 ciao